Mi chiamo Giulia, ho 19 anni, vengo da Torino, frequento il primo anno dell'Accademia di Belle Arti a Cuneo. Le mie ambizioni sono lavorare nel campo della moda. Mi chiamo Federico Orsillo, sono nata a Napoli, abito a Settimonte-Adinese da 14 anni e 17 anni. Voglio diventare qualcuno di importante. Mi chiamo Elena Riccioni, ho 21 anni, vengo da Novara. Ho finito gli studi da poco e sono in cerca di un lavoro. Le mie ambizioni sono entrare nel mondo dello spettacolo, soprattutto nella moda, perché mi piace appunto fare alcune sfilate e soprattutto mi piace questo campo e mi appassiona da anni. Mi chiamo Valeria Rossa, ho 22 anni e vengo da Pinerola, in provincia di Torino. Studio all'Università di Torino Scienze di Amministrazione di Organizzazione e Consulenza al Lavoro. Nella vita faccio anche un po' modella, fotomodella ogni tanto quando capita e partecipo al concorso perché è una bellissima esperienza e anche perché voglio mettermi alla prova un po' come si deve. Sono Fabiola Maestro, vengo da Villar Perosa, in provincia di Torino. Ho 17 anni e a luglio ho finito la scuola di parrucchieri. Attualmente sto cercando lavoro e ho piacere di partecipare a questo concorso. Inizio tutto perché è un'esperienza che mi può dare tanto, poi per mettermi alla prova e anche conoscere nuove persone. Io sono Francesca Pinaffo, ho 21 anni e vengo dalla provincia di Cunia. Nella vita sono una studentezza di giurisprudenza, infatti ho iniziato il terzo anno e mi piace tantissimo, infatti vorrei realizzarmi nella vita come magistrato. Sono Giada Macchi, ho 18 anni e vivo a Trecata in provincia di Novara. Studio al liceo linguistico di Romentino e nella vita vorrei diventare una interprete. Inoltre penso che Miss Italia sia un ottimo concorso, dà molte possibilità alle giovani di oggi e mi piacerebbe anche lavorare nel mondo dello spettacolo.